quella di oggi è una giornata speciale un abbraccio tricolore avvolta dal suono delle campane da nord a sud da est a ovest un'italia che si abbraccia virtualmente sotto il tricolore che rappresenta il mondo della montagna ma non solo i suoni per ricordare che il 7 febbraio partiranno i campionati del mondo di cortina ai quali purtroppo non sarà presente la nostra grande sofia goggia ai quali facciamo un grande in bocca al lupo invece la grande buona notizia è che ripartiremo il 15 febbraio il cts ci dà l'opportunità di tornare sugli sci e oggi per me risulta essere anche una giornata speciale perché 24 anni fa come oggi tornai a casa con questo argento mondiale di sestriere è una giornata un po speciale perché un po la bella notizia che probabilmente molte stazioni potranno aprire da metà febbraio in avanti e questo è positivo un po per tutti per tutto il mondo della montagna tutti gli operatori che girano intorno alla montagna alla neve la notizia di ieri del cts ci ha aperto veramente il cuore a tutti quanti anche perché è da mesi che la montagna soprattutto la lombardia che è ricoperta dal 40 per cento dalle montagne aveva necessità di ripartire per noi questo è un segno di grande speranza anche se senza dubbio rimarrà sempre sotto l'attenzione massima l'aspetto sanitario che non possiamo mai dimenticare quindi viva le montagne e speriamo di ritrovarci sulle piste da sci lombarde